Domani si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e dei membri dell'Assemblea Nazionale. I candidati a segretario nazionale sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giacchetti. Possono votare tutti gli elettori del PD versando un contributo minimo di 2 euro. I seggi saranno 50 disseminati su tutto il territorio provinciale e saranno aperti dalle 8 alle 20. Per votare basta presentarsi nel proprio seggio di appartenenza con un documento di identità. Per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale, per Maurizio Martina, i candidati pratesi sono Simone Faggi, Maria Luisa Vannucchi, Alessandro Storai, Donatella Cicali e Riccardo Vitali. Per Nicola Zingaretti, Marco Saccardi, Cristina Sanzò, Stefano Ceccarelli, Maria Loi e Manuele Butelli. Per Roberto Giacchetti, Lorenzo Tinagli, Belinda Guazzini e Pierluigi Couzzi. Ringrazio tutti i nostri volontari che domani lavoreranno ai seggi rendendo possibile questo appuntamento così importante per il PD e per la politica nazionale, dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi. Con le primarie il PD si conferma ancora una volta come l'unico partito strutturato sul territorio e che crede davvero nella democrazia e nella partecipazione dando la parola ai propri elettori in modo aperto e trasparente in tutto il paese. Queste primarie, aggiunge Bosi, sono una straordinaria occasione di mobilitazione per la nostra comunità anche in vista delle prossime sfide che ci attendono. Penso soprattutto alle elezioni amministrative ed europee. Lavoreremo tutti insieme come una squadra compatta a sostegno dei nostri candidati a sindaco nei comuni di Prato, Montemurlo, Vernio, Vaiano e Cantagallo. Grazie a tutti.